Saldi al 100%. E' stato questo lo slogan della Dunata della Gioventù di Ocesana che si è tenuto nella serata di venerdì 15 aprile nel Santuario di San Francesco. Una veglia di preghiera con musica e linguaggio universale proprio dei giovani, giochi ed esperienze di vita vissuta da condividere apertamente. Promotore di questa mirabile iniziativa, Don Rocco Coppolella, sacerdote che ha a cuore i giovani come lui e che cerca di avvicinarli a Dio e comunque di mantenerli saldi nella fede in maniera del tutto originale. Ciascuna parrocchia si è presentata in chiesa con un cubo, un dado a sei facce in colori differenti, di grandezza diversa a seconda dei desideri riposti in ognuno di essi da tutti i ragazzi presenti. Sono intervenuti, oltre a Sua Eccellenza Monsignor Domenico Cornacchia, di cui Don Rocco è segretario, una delegazione dei frati minori conventuali che hanno ospitato questo incontro, nonché enti ed associazioni di volontariato, i diversabili ONLUS, la Protezione Civile e la Cooperativa Silvana, per fare qualche esempio, ed altri ancora che hanno voluto esserci a tutti i costi, eppure altrettanta gente appartenente ad altre fasce d'età. Alcuni con indosso delle t-shirt con sulla scritta saldi al 100%, taluni invece bambini della scuola primaria che hanno rimesso indosso gli abiti d'epoca che sono stati sfoggiati in occasione del corteo in onore del padre maestro. Tutti si muovevano in questo reticolo di emozioni sinergicamente. Una piazza tribunali strapiena di auto in sosta da cui uscivano fiumi di persone che sgattaiolavano in chiesa e euforici per questo evento di grande attrazione che Don Rocco è riuscito ad organizzare in maniera maestrale. Una chiesa dalle porte spalancate a Cristo, come direbbe Giovanni Paolo II, che ti dà quell'impulso ad entrarci una volta per tutte. Non si spiegherebbero altrimenti 5.000 amici che proprio Don Rocco Coppolella detiene su Facebook, il noto social network che meglio racconta le personalità dei molti giovani iscritti. A manifestazione conclusa Don Rocco posta un commento su detto portale, datato sabato ore 1.34, che dice Al termine di questa giornata il mio cuore di giovane prete è felice perché ho incontrato tantissimi volti di giovani felici. Grazie a tutti voi e saldi al 100%. Ed una sfilza di commenti che chi c'era ha inteso lasciarli. Grazie Don Rocco. Grazie a tutti.